Perché fai sempre gli stessi errori con gli uomini? Ti sveglio e ti spiego il motivo. Se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, l'esperto numero uno in Italia delle relazioni sentimentali. Faccio questo da oltre sei anni, sono laureato in Scienze di Educazione e della formazione con 110. Ho oltre mezzo milione di followers tra tutti i social media. Sono il fondatore della startup Club Riservato, una startup dedita alla crescita personale femminile in ambito sentimentale. Se ti stai chiedendo perché fai sempre lo stesso errore con gli uomini, in questo video ti spiego esattamente il motivo grazie a una domanda che mi è stata fatta da una ragazza nel Club Riservato e ti aiuterò a capire nel profondo perché fai sempre gli stessi errori con gli uomini. Andiamo. Allora, ciao Federico, sono una ragazza che è in balia di un presunto riaffacciarsi della ex. Più volte sbroccato e mandato all'aria in una relazione intensa di tre mesi. Mi hai giustamente consigliato di invaiare quel famoso messaggio di scuse per poi entrare in no contact, ok? Volevo solo dirti che non ho fatto in tempo. Tutte le mie paure si sono concretizzate e palesate in un messaggio su Instagram della ex che mi racconta via messaggio a notte fonda che lui la tampina da qualche mese per tornare con lei e che nega in contemporanea di avere una relazione seria con me. Lei dice che si presenta con un tienitelo se vuoi, lei che si presenta con un tienitelo se lo vuoi, a me ha chiesto ieri sera di comprare casa con lui e le faccine che ridono. Partiamo dal presupposto che una donna che riferisce malamente o male lingue, pettegolezza a un'altra donna non è proprio giusto. Cioè nel senso c'era il detto che fa la spina nel figlio di Maria quando ero piccolo andava a scuola, ovviamente non sempre i pox popoli, i pox dei, però un po' è vero. Cioè andare a riferire notizie negative a un'altra persona va un po' a inquinare la capacità di giudizio, mentre tu idealmente non vorresti sapere cose di altre persone, ma vorresti utilizzare la tua unica e sola capacità di giudizio e metterla alla prova, questo è l'ideale. Ecco perché ti sconsiglio di dar retta a persone che sparlano del ragazzo, eccetera, eccetera. Ah, lui sta con lei, bla bla bla, ok. Dice di sapere tutto, di sapere che mi ha lasciato X tempo fa e a me invece ha bisogno di tempo, ha detto che ha bisogno di tempo, più volte l'ha chiesto di vedersi per fare quello e io nel mezzo in credula, che cerchi di capire prima da lei e poi da lui la verità. Io branco nel buio, esatto, proprio per questo motivo. In mezzo è una sorta di anestetico, senza rendermi conto che sta accadendo e sta accadendo di nuovo a me. Lui nega, ma non ha le palle. Allora, tu sei in questa situazione perché non mi stai a sentire. Se io ti dico di riprogrammare la tua mente, c'è un motivo. Il motivo è che la tua mente non è riprogrammata per essere a prova di proiettile quando hai a che fare con questi idioti. Quindi questo pattern, tu, finché non riprogrammi la tua mente, come il king qua comanda, lo rivivrai ancora e ancora e ancora, finché non hai imparato la lezione. La lezione o la impari e non la impari, o lasci che questa lezione trasformi per sempre la tua vita sentimentale. Come? Con la riprogrammazione mentale. Inizia a utilizzare i miei contenuti, segui alla lettera quei contenuti, ripeti quei contenuti, riprogrammi e trasformi la tua vita. Chiaro? Il motivo per cui ti si ripete sempre la stessa cosa è perché tu questa lezione non l'hai imparata e non l'hai trasformato il tuo programma mentale, il tuo subconscio è tarato sempre per far sì che si verifichi la stessa e l'antica cosa. C'è un motivo se io vi dico di riprogrammare la mente e parlo di riprogrammazione mentale. C'è un motivo. Lui nega, non mi chiama, dice che lei mente, sì, certo. E io poi gli dico che mi aspetto una chiamata, ma de che? I uomini non ti chiamano, i uomini non sanno comunicare. Figurati se ti chiami e ti dice la verità. Sveglia! Ok? Credo di non aver mai vissuto una cosa simile, o meglio la sensazione la conosco perché ho lasciato il mio ex dopo anni di tradimenti. Anni di tradimenti non è quello che vuoi più vedere nella tua vita. Non devono essere accettati. Se io voglio una relazione monogama, non accetto i tradimenti, nemmeno il primo, nemmeno l'allusione di. Ovviamente mi faccio un'idea di quanto posso spingermi all'accettazione. Se io non accetto i tradimenti, io queste caratteristiche le so e le conosco all'interno della persona, nell'idea della persona che vorrei conoscere e che voglio al mio fianco per sempre, per tutta la vita. Idealmente per sempre. E le sai quali sono queste caratteristiche? C'è l'esercizio che ti spiego da fare, non il corso. Quello è la base. Io non so chi mente tra i due e cosa ci sia stato. Niente, nessuno mente. Tu devi osservare i fatti. Chi mente, chi non mente. Ma che te ne frega di chi mente e chi non mente. La tua necessità è capire che cosa vuoi tu, no che cosa dicono gli altri. A te e degli altri. No, te ne deve sbattere alle ovaie. A te deve interessare che cosa vuoi tu. Che cosa vuoi tu. al tuo fianco, vicino a te, un uomo con i contromaroni. Lo vuoi? Sì. E allora perché stai ancora parlando di questo smidollato? Ok? Ce l'ho con te, però sto utilizzando un tono alto per penetrare nella tua mente. Non fraintendere. O fraintendi, fai come te pare, tanto questa è la verità dei fatti. Ok? Oh, e allora? Sveglia! Questa brutalità di questa persona mi scoinvolge e non so cosa ci sia stato. Non ti interessa. So che la verità potrebbe stare a metà, so che la prima bugia che mi ha detto è sulla fine di questo rapporto. Non è terminato x tempo fa, ma solo altri mesi fa. Sbrocco più volte perché lei scrive, spie, eccetera. Adesso ricomincio da me, lavoro sulle mie reazioni, mi accolgo l'occasione per dirti col cuore in mano questa cosa. Io vorrei non aver più paura di innamorarmi. Allora riprogramma la tua mente. Adesso, in questo preciso istante, hai tutti gli strumenti a tua disposizione. Che cosa stai aspettando? Che cosa stai facendo? Inizia subito. Vorrei non dover più studiare materiale su come difendermi dall'amore. Io non lo faccio più, io non studio più questa roba, ok? Cioè sì, in realtà la studio, ogni tanto mi informo e poi applico delle cose trasversalmente stile Leonardo da Vinci in modo rinascimentale, da altre sfere di vita. In questa sfere di vita ve le porto queste chicche, queste perle. Però, quello che voglio dire è che quando tu sei riprogrammata e la tua mente è riprogrammata per il livello che desideri, non è che torni indietro, non si torna più indietro. E allora a te basta solo fare il level up, tu devi fare il level up. A volte io credo che non tutto sia nelle nostre mani. Certo, quando tu dici questa cosa mi fai capire che tu non hai visto manco un video di quelli che dico io. Questa frase sarebbe proprio da cancellare, no? Ah, io credo che non tutto sia nelle nostre... Ma dai! Tu non hai visto nemmeno un video se dici questo, non hai completato nessuno dei miei corsi. Nessuno! Per dire questa frase. Perché il distacco dall'aspettativa, io lo predico come se fosse il pane. E secondo te il distacco dall'aspettativa che cosa prevede? La conoscenza e la saccenza di sapere che non gestisci tutto quello che ti circonda. Ieri ho chiarito... Non cambia quello che ti ho suggerito prima. Dice, ieri ho chiarito la mia posizione. Gli ho detto quello che penso e quello che ho capito. Lui risposta mi scrive a me se non sei riuscito a difendermi. E la sua posizione in dubbio su di noi rimane. Mi chiede di sentirci, ma rifiuto. Aspetterò come hai detto tu. Certo! Non cambia nulla di quello che devi fare. Non cambia nulla. Cambia che devi riprogrammare il tuo subconscio. Ripeterai sempre... Perché mi succedono sempre le stesse cose? Vi dico perché fai sempre le stesse cose in quanto hai sempre lo stesso schema mentale. Guarda che anch'io ho fatto gli stessi errori per due anni nel business e negli affari. E adesso sono un anno e mezzo che continuo a fare gli stessi errori e li sto ricorreggendo. Cioè non è che io sono esente dai programmi mentali. Ovviamente l'importanza è sapere, riconoscerli e poi nutrirsi con le informazioni giuste. Dimmi solo se approvi o se dal tuo punto di vista c'è altro che possa fare per uscire a questo buco nero su di me. Sì, te l'ho detto tutto il corso del video. La verità è che per me è importante, non voglio buttare un rapporto così bello. Prima di pensare di buttare un rapporto così bello, pensa a riprogrammare la tua mente, i tuoi programmi mentali. Sono stato molto acceso in questi toni, in questo video. Ma è importante perché così capirai veramente che è il momento di studiare. È il momento di riprogrammare la propria mente. E tu adesso nel club riservate hai tutti gli strumenti a tua disposizione. Quindi start using it. Inizia a utilizzarli adesso. Ok? Bene.